Gianni Panconi, al termine dell'Assemblea degli azionisti della Sampdoria, in seconda convocazione, andata deserta. Spieghiamo perché, spieghiamo che cosa è successo oggi. Noi stamattina abbiamo ricevuto una comunicazione dai rappresentanti del socio di maggioranza che non si sarebbe presentato in questa assemblea, quindi evidentemente non ci sono state le condizioni per essere costituita, è andata deserta e abbiamo ricevuto comunicazione di richiesta di riconvocare l'Assemblea con lo stesso ordine del giorno, quindi ripatrimonializzazione della società e aumento di capitale, cosa che in giornata il CDA si riunirà per andare nuovamente a riconvocare l'Assemblea nei tempi più rapidi possibili, come ci è stato richiesto dall'azionista. Che significato ha, secondo voi, questa operazione dell'azionista di guadagnare tempo? Ovviamente avrà anche dei contenuti e delle aspettative. Chiaramente l'azionista ci ha espresso il fatto che esistono delle ipotesi di lavoro che ovviamente sono tenute nella massima riservatezza e che portano evidentemente a riconvocare nei tempi più rapidi possibile l'Assemblea. Quindi noi lavoreremo, come abbiamo sempre fatto, di supporto a qualsiasi tipo di ipotesi che consenta alla Samp di proseguire il suo percorso e tanto faremo nei prossimi giorni. Si è presentato anche Alessandro Barnaba di Merlin Partners a questa assemblea nelle vesti di piccolo azionista. Che cosa vi siete detti? Ci siamo conosciuti, ci siamo chiariti, ci ha rappresentato meglio il suo progetto e le sue idee e come gli abbiamo detto precedentemente, noi come CDA siamo lieti di lavorare in tutte le soluzioni che portano bene alla Samp che in questi 12 mesi è stato l'unico obiettivo che abbiamo avuto. Tutti i quattro membri del CDA hanno solo avuto come obiettivo il bene superiore della Samp e hanno collaborato a tutte le ipotesi di lavoro che consentissero e che consentano alla Samp Doria di trovare chiaramente una nuova proprietà, una nuova casa e un futuro rosio come tutti ci auspichiamo. Gli idee e progetti, quelli di Barnaba, che però sia pur a distanza non risultano graditi alla tua le azionista di maggioranza, non ha mancato di farcelo sapere direttamente? Questo bisogna chiederlo all'azionista di maggioranza. Noi ci operiamo rispetto a quelle che sono le nostre prerogative competenze e rispondiamo solo rispetto a quello e al codice civile insieme al collegio sindacale. Per il resto ovviamente le operazioni sul capitale devono essere sempre definite col socio, non possono essere definite col CDA e questo rimane e rimarrà anche nei prossimi giorni. CDA tutela la Samp Doria perché oltre che perché ci teniamo è anche per legge dovuto e quindi noi faremo tutto quello che serve per proteggere la Samp Doria. Un'ultima cosa, la Samp Doria deve essere ricapitalizzata, può farlo l'azionista attuale di riferimento, la famiglia Ferrero, può farlo un nuovo socio, ad esempio Barnaba, può anche non farlo nessuno. Che cosa succederebbe in questo caso? Intanto prima andiamo a vedere cosa succede nell'assemblea e poi ci pensiamo. In ogni caso come dire, come ho appena detto, noi abbiamo lavorato in tutti questi mesi passati, lo facciamo nei prossimi giorni, sempre per trovare una soluzione. Quindi quello che ci tengo a dire è che mi rendo conto che ci sia grande attenzione a tutto quello che ci riguarda, a questa vicenda che è evidentemente frustrante per tutti e pur tuttavia io chiedo a tutti grande riservatezza sotto certi profili, grande contegno e calma perché questo è il momento di essere tutti, anche se lo capisco sia molto difficile, molto calmi, col sangue freddo per il bene della Samp Doria. C'è l'impressione che i soci di maggioranza riesca in qualche modo, o vi ha fatto capire, che possa ricapitalizzare? Ci sono delle ipotesi di lavoro che ti dico con rispetto. In questo momento tutte le ipotesi, compresa l'ipotesi che pure ha avuto una certa mediaticità del fondo Merlin, noi siamo ovviamente sotto l'accordo di riservatezza e io ritengo, come ho sempre ritenuto, che la riservatezza sulle trattative, pur essendo in un mondo che evidentemente è molto mediatico, sia l'unica soluzione perché si possano portare in fondo. È un po' la mia deformazione professionale e credo che quindi anche in questo caso, come dire, dobbiamo gestire rispetto a forte confidenzialità, pur nel rispetto della richiesta di informazioni che ci derivano da voi, che fate giustamente il vostro mestiere e chiaramente anche da parte dei tifosi che aspettano questa soluzione. però bisogna lavorare sodo, tanto, a pancia terra e con grande contegno, con grande attenzione particolare alla riservatezza perché la partita finisce solo quando finisce. Tifosi che erano presenti, ancora solo un chiarimento, avete avuto anche un colloquio, poi dopo quel colloquio i tifosi si sono sciolti, sono rientrati a Genova e possiamo anche dire che non ci sono state altre evidenze di proposte alla Sampdoria di ricapitalizzazione, per essere chiari, la vicenda Altani? Io sulle vicende che riguardano le altre proposte, riguarda il socio, a noi non risulta e penso che noi auspichiamo qualsiasi tipo di soluzione positiva per la Sampdoria. L'importante è che sia concreta, seria, veloce e come ho detto prima, qualsiasi soluzione meno è parlata e più è scritta, è verificabile, meglio è. Ancora due cose, una sul mercato di gennaio, mercato di campagne acquisti della Sampdoria anche da parte eventualmente di fondo Merlin, se rinvia dell'assemblea complica i piani tecnici del mercato a livello di Sampdoria Purena. Saremo nei tempi più rapidi possibili per rendere comunque qualsiasi tipo di soluzione emerga anche eventualmente compatibile col mercato. Con Barnaba nel suo progetto si è portato di concordato di composizione negoziale della società? No, oggi ci siamo conosciuti, abbiamo avuto modo di capire chi siamo e non siamo entrati nei dettagli tecnici perché è la prima volta che ci si vedeva di persona, almeno con me, e quindi ci siamo chiariti, gli abbiamo detto che abbiamo fatto questa follia di entrare nel CDA un anno fa perché vogliamo bene alla Sampdoria e ci auspichiamo solamente che chi si avvicina alla Sampdoria voglia tanto bene alla Sampdoria. Avete parlato anche di progetto, qual è il progetto di Barnaba? Insomma, abbastanza grande serietà e credo con ottime possibilità di creare delle sinergie, e quindi quello che potete immaginare per chi ha già un club internazionale dove ha fatto bene. Un'ultima cosa, questa sciarpa denota la fede blu cerchiata radicata di Gianni Panconi. Da tifoso più che da amministratore, quante possibilità dà a una soluzione positiva della crisi della Sampdoria? Quanto i tifiosi possono sperare in questo? Le promesse del calcio ho capito che non si devono fare, non le faccio. Io quello che posso promettere è l'unica cosa, è che noi stiamo qua, non in termini di presenza nel CDA, fino a che il nostro mandato è vivo, noi diamo tutto quello che si può dare per il bene della Sampdoria, che è l'unico obiettivo che abbiamo. A scapito di qualsiasi tipo di salvaguardia personale, l'abbiamo già dimostrato durante tutto quest'anno, e quindi non c'è né ottimismo né pessimismo, c'è lavoro e lavoriamo fino all'ultimo secondo instancabilmente. Non mogliamo niente. Per qualcuno nel mercato, chi parla di noi, chi dice tutte le cose negative sulla Samp, noi daremo tutto fino alla fine, perché la Sampdoria, che è la cosa più importante per noi, abbia un futuro rosio. Grazie.